Questa moglie si trova in casa sua e sta a letto con l'amante quando sente rientrare inaspettatamente il marito quindi dice all'amante Oddio è mio marito che ci ha fatto un blitz corri, vatti a nascondere subito al bagno anzi no al bagno no che lì si va a guardare per primo vatti a mettere sotto al letto anzi no sotto al letto no che pure lì va a guardare vatti a filare all'armadio, corri nell'armadio insomma l'amante si va a nascondere dentro all'armadio arriva il marito che apre la porta della camera da letto con violenza e dice alla moglie chi c'era ho sentito dei rumori ma caro ti assicuro guarda che non c'era nessuno ah non c'era nessuno adesso vediamo se non c'era nessuno insomma va guarda al bagno e non trova nessuno guarda sotto al letto e neanche lì trova nessuno allora si dirige verso l'armadio apre l'anta dell'armadio e trova questo dentro all'armadio attaccato al palo in questa posizione allora gli fa e te che cazzo sta a fa qua dentro e questo eh niente io me sto a fa una passeggiata col tram e che cazzo di risposte sarebbero queste no ma che cazzo di domande sono le tue no ma che cazzo di risposte sarebbero queste no ma che cazzo di risposte sarebbero queste